E quindi parliamo di un finanziamento che andrà finalmente a risolvere un problema tabico della nostra città, per cui se prima non andavamo a risolvere i problemi storici essenziali, come potevamo andare a parlare o affrontare altri temi in termini sistematici, in termini di programmazione? E questo abbiamo fatto. Chiaramente questi fondi serviranno per andare a fare la rete idrica, questi fondi serviranno per andare a riasfaltare le strade perché sarà toccata chiaramente tutta la città, questi fondi serviranno perché finalmente a questa città si dia una svolta sul piano politico e amministrativo. E chiaramente segna la svolta. Un finanziamento importante, determinante sotto il profilo prettamente anche storico, tanto che lei ha pensato e ha annunciato di assegnare la cittadinanza onoraria al Presidente Lombardo. Tanti hanno malignato su tale scelta, addirittura alcuni hanno paventato anche una mozione di censura nei confronti del Sindaco Zambuto qualora insistesse nella volontà di assegnare la cittadinanza onoraria al Presidente Lombardo. E tanti malignano che il Presidente Lombardo non ha finanziato la rete idrica per come avrebbe dovuto finanziarla, nel senso che il progetto ammonta a 40 milioni di euro, quindi sostanzialmente Lombardo ha ridotto di 15 milioni di euro il finanziamento. Parliamo di un progetto che è di 35 milioni di euro e parliamo di un progetto che è stato finanziato per 25 milioni di euro, per cui i lavori possono immediatamente iniziare. Dopo Pasqua. Assolutamente sì. E quindi parliamo di un progetto che per più del 70% è stato finanziato e quindi è con soldi veri, con risorse che ci sono. Mi farebbe piacere se tutti questi soloni che sono intervenuti solo e soltanto per fare danno alla città, cioè perché le polemiche che hanno attivato in questi giorni sono state polemiche di chi dice Oh ma come sono arrivati 50 miliardi delle vecchie lire da Grigento, no non è possibile, li dobbiamo restituire, oh no questo non si deve fare, cioè io rimango allucinato. Veramente dal livello che va ad acquisire alla polemica politica farebbero bene questi signori invece a misurarsi e a dire vediamo che cosa noi siamo in grado di fare dopo non aver fatto nulla in questi anni, vediamo che cosa siamo in grado di portare a questa città. Io ritengo che dinnanzi a un fatto concreto, sancito, con legge, con soldi veri, si ci dovrebbe misurare in questi termini, cioè sulla capacità che bisogna avere nel riuscire a portare finanziamenti e nel riuscire a portare la risposta alla città. Tenuto conto che, e questo lo voglio dire con chiarezza e con franchezza, l'ho detto anche in altri momenti, io non ho polemiche personali con alcuno, non ho polemiche personali con il ministro Alfano, anzi, io ho salutato con grande orgoglio di Agrigentino la sua elezione e la sua nomina all'interno del Consiglio dei Ministri della Repubblica, proprio perché io ho confidato sul fatto che da questa posizione potesse la città di Agrigentino vederne e averne beneficio. A oggi devo dire che questi benefici la città di Agrigentino non ne ha avuti, ma, e voglio dire ancora di più, io sono pronto nuovamente a salire e a scendere di Roma se gli altri impegni che sono stati presi con me per la città e che sono alla luce del sole e che riguardano il campo di Villa Seta, la palestra bunker di Villa Seta, il campo di atletica leggera sempre di Villa Seta, i soldi del Ministero della Giustizia che vengono anticipati dal Comune di Agrigento, i soldi della Saiseb per i quali il Comune di Agrigento per una vicenda giudiziaria, giudizia e amministrativa è dovuto andare a pagare 6 milioni di euro. Dicevo, io sono pronto nuovamente a salire e a scendere da Roma. Più l'ipotesi della legge speciale. Più l'ipotesi della legge speciale, più l'ipotesi sul centro, sui finanziamenti, sul centro storico della mia città, ma comunque qualunque intervento che possa venire in soccorso della mia città, io sono pronto nuovamente a salire e a scendere da Roma affinché si possa dare beneficio a questa città. E io sono pronto a riconoscerlo a chiunque il lavoro che fa per la mia città. Però è chiaro che dinanzi ai fatti concreti, dinanzi alla capacità e soprattutto al fatto di dire ho portato questi soldi ad agrigento. Perché diversamente diventa tutto un fatto di polemica politica che non è per nulla compreso dalla gente. Per quanto mi riguarda, come avete avuto modo anche di vedere, a tutti gli attacchi, le offese che veramente mi scendono giù, non ho per nulla dato ascolto e non ho per nulla risposto. Sindaco Zambuto, lei ha mai pensato nelle sue valutazioni personali che forse al comune di agrigento lavori in modo molto flebile l'ufficio Europa? E ha mai pensato se sia il caso allora che magari nella prossima ricomposizione della giunta comunale lei assegni una delega anche alle risorse comunitarie? L'esempio, a Porto Empedocle, e a me ciò consta giornalisticamente, non è una mia valutazione di carattere politico, a Porto Empedocle il sindaco Firetto diffonde spesso delle notizie di ottenuti finanziamenti comunitari anche per un milione, un milione e mezzo di euro, non di più. Però si tratta di fondi che sicuramente poi sono utilizzati a beneficio della cittadinanza e che si sommano nel corso del tempo. Ad agrigento invece, e ciò mi costa sempre giornalisticamente, raramente è diffusa, pubblicata la notizia secondo cui il comune di agrigento è riuscito ad ottenere un finanziamento comunitario anche per un milione di euro. Su questo voglio essere estremamente chiaro. I fondi comunitari vengono gestiti, vengono utilizzati attraverso i bandi che pubblica la regione siciliana. I bandi che ha pubblicato la regione siciliana, il comune di agrigento ha partecipato con la mia amministrazione e con la mia amministrazione siamo riusciti a recuperare più di 20 milioni di euro di finanziamenti. Parliamo di misure europee che riguardano i cosiddetti PISU e riguardano i PIST. Che bisogna ancora impiegare. Sì, perché noi praticamente sono finanziamenti che già abbiamo avuto riconosciuto e che aspettano solamente il decreto di erogazione per poter partire. E questi sono stati onestamente lavori che ha fatto la mia amministrazione con l'ufficio lavori pubblici a cui dobbiamo riconoscere un grandissimo merito di essersi misurato in questi anni anche e soprattutto nel recupero e nella capacità di recuperare finanziamenti e di intercettare. Noi abbiamo partecipato a tutti i bandi che la regione siciliana ha pubblicato. Il bando sui alloggi a canone sostenibile che abbiamo voluto indirizzare dentro il centro storico. Il bando che ha a firma dell'onorevole Luigi Gentile. Abbiamo partecipato e abbiamo avuto proprio all'ingirca complessivamente solo lì 10 milioni di euro. Per poi non parlare dei bandi PISU e PIST che riguardano il progetto sulle piazze del centro storico da piazza Pierandello fino a piazza San Giuseppe per salire a Santa Maria dei Greci e per arrivare a Santo Spirito. E poi per non parlare del cosiddetto PIST nel quale all'interno di una programmazione che vede Agrigento, Favara, Porta Empedocle siamo riusciti anche lì ad ottenere finanziamenti per le strutture che andremo a realizzare. Il punto è che noi queste cose le abbiamo fatte questi anni partendo da zero. Noi queste cose le abbiamo fatte in questi anni partendo da zero sul piano anche e soprattutto della progettazione e della programmazione. Per cui i bandi sono stati pubblicati quasi tutti tra il 2008 e il 2009. Noi abbiamo partecipato, già ora sappiamo quelli per i quali è sicuro che vi è stato il finanziamento. Attendiamo proprio che vengano decretati perché anche lì possano partire i lavori. Ma io di questo devo riconoscere una grande capacità all'ufficio lavori pubblici di essersi misurato nell'andare a recuperare nuovi progetti e nuovi finanziamenti. E questo ha rappresentato anche questo un tema storico e centrale della nostra città. Cioè quello di riuscire finalmente a intervenire e riuscire a recuperare finanziamenti che prima di oggi non si erano mai recuperati. E per non parlare poi del tema dei temi che purtroppo in questi anni ci ha fortemente condizionato che è stato il tema della situazione finanziaria. Ma voi comprendete come oggi noi ci troviamo con una situazione finanziaria in cui a fronte dei debiti fuori bilancio che vi erano negli anni passati più di 30 milioni di euro di debiti fuori bilancio all'incirca 40 milioni di euro di debiti accertati noi oggi ci troviamo con avere una scopertura di cassa di all'incirca 10 milioni di euro che è il fronte in cui dobbiamo intervenire e che rimane l'unica voragine sicuramente ancora aperta ma se voi considerate che noi siamo andati a recuperare in questi anni siamo andati a pagare tutti i debiti che vi erano e stiamo rimasti solamente con questo fronte aperto e questo l'abbiamo fatto senza aumentare di un euro le aliquote questo l'abbiamo fatto, è chiaro che lo abbiamo fatto a scapito dei servizi che la città chiede perché quando io ho debiti da pagare poi è chiaro che ho difficoltà nei quartieri quando la gente mi chiede di asfaltare tutti i quartieri o mi chiede la luce nei quartieri anche lì il tema della luce paradossale in un'economia così difficile come la nostra io mi trovo per esempio ad avere fatto una gara per circa un milione e mezzo di euro per la manutenzione della pubblica illuminazione e siccome purtroppo l'economia è un'economia povera partecipano tantissime ditte dince una ditta dopodiché cominciano i ricorsi al TAR, al Consiglio di Giustizia Amministrativa al Consiglio di Stato per poi ritornare al TAR insomma ci troviamo noi con una gara che è stata bandita nel gennaio del 2010 e che ancora oggi è bloccata da tutta questa serie di ricorsi ma voi vi rendete conto che cosa significa amministrare e non avere soldi io non è che mi sono trovato con una città io mi sono trovato con una città distrutta quando mi sono trovato a dover prendere conto e atto di questa situazione finanziaria all'inizio del suo cammino un assessore si dimise di Lomicichè quella fu una scelta per la contrarietà nel senso che lui avrebbe preferito avrebbe preferito dichiarare il dissesto finanziario dichiarare il dissesto finanziario cosa che io ancora oggi nonostante questo mi comporta grandissimo sacrificio nonostante questo mi comporta dovere dire tanti no dovere dire alle persone di aspettare ma io sono convinto che abbiamo fatto la scelta migliore perché avrebbe significato prima di tutto che tutti i fornitori e i debitori nel confronto del Comune di Agrigento e parliamo quindi di più di tra i debiti fuori bilancio e i debiti accertati parliamo di più di 70 milioni di euro quindi parliamo di 140 miliardi delle vecchie lire si sarebbero andati in fumo quindi per l'economia per i fornitori e per tutti io non so oltre che al fallimento del Comune di Agrigento quante altre ditte aziende avrebbero dovuto mandare a casa i propri indipendenti e inoltre noi avremmo mandato a casa come Comune di Agrigento 200 persone che sono i precari ma questo sarebbe stata la scelta come dire più che avrebbe tagliato la testa al toro quasi pilatesca ma sarebbe stata una scelta pilatesca noi ci siamo assunti la responsabilità di combattere l'emergenza e per questo io ho domandato a destra e a sinistra ho bussato la porta a tutti io ho bussato appena insediato me la porta a Prodi e poi così come ho visto che non vi era alcuna sensibilità rispetto al territorio ho chiesto a Berlusconi così come ho visto che non si è registrato alcun segnale ho chiesto al presidente della regione prima l'avevo chiesto a Cuffaro e poi l'ho chiesto a Lombardo io ho chiesto soldi per la mia città a tutti e oggi portiamo a casa risultati che rappresentano e che sono risultati storici uno non avere chiuso il Comune di Agrigento e avere consentito anche con tutte le difficoltà che ci sono di andare avanti di riuscire ad assicurare e di tenere aperto il Comune di Agrigento perché io l'avrei dovuto prendere e chiudere il Comune di Agrigento e dire non ce n'è non ce n'è per nessuno e avremmo dovuto chiudere e si sarebbe veramente dovuto chiudere la città abbiamo tenuto che ogni giorno facciamo i miracoli per tenere aperta perché crediamo assolutamente nel fatto che dobbiamo dare fiducia e speranza e dobbiamo assumerci responsabilità anche scelte difficili ma per tenere unito un corpo sociale un corpo popolare purtroppo le nostre generazioni questo tempo sta pagando gli errori che la politica ha compiuto nel passato purtroppo rispetto ai quali oggi li stiamo pagando tutti per intero